Ciao a tutti! Oggi prepareremo la salsiccia al sugo. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono salsa di pomodoro, salsiccia, concentrato di pomodoro, cipolla, olio evo, sale, pepe nero, alloro, basilico e zucchero. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 5 minuti 120 gradi velocità 3 riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la salsa di pomodoro il concentrato di pomodoro la foglia di alloro il sale lo zucchero il pepe ed il basilico e cuocere per 10 minuti 100 gradi velocità 1 bucherellare la salsiccia con i rebbi di una forchetta mettere la salsiccia e cuocere per 30 minuti 100 gradi anti-orario velocità soft mescolare con la spatola mescolare con la spatola e proseguire la cottura per 10 minuti per 10 minuti 100 gradi anti-orario velocità soft la salsiccia è cotta il sugo può essere utilizzato anche per condire la pasta impiattare e servire salsiccia al sugo grazie e alla prossima ricetta grazie